Grazie Francesco, buongiorno a tutti, benvenuti, vedo che siete numerosi, come al solito, quindi mi fa molto piacere, io prenderò il tempo per una brevissima introduzione a questa discussione che sarà molto interessante, credo, di questo nostro webinar. Innanzitutto per ringraziare le Sabrina Lucatelli e Daniela Storti, che sono due esperte che si occupano da sempre di queste materie, con diversi gradi di responsabilità e di specializzazione e che quindi ci fa piacere poter ospitare una riflessione su questo tema, strategia di sviluppo del territorio, filiere agricole e uso sostenibile della terra, con un confronto e anche un'illustrazione di casi con loro che hanno competenza e anche esperienza di intervento su questa materia e ringrazio molto. L'altra cosa che volevo dire, prima di chiedere la parola è che questa iniziativa fa parte del piano formativo di Sibater, del nostro progetto, come sapete, forse sapete, ma insomma vedo nella lista dei partecipanti che ci sono molte persone che si seguono abitualmente, noi alterniamo momenti di, come dire, momenti tecnici, di approfondimento tecnico sui strumenti che usa il progetto per fare questo supporto ai comuni sul tema della valorizzazione sostenibile della terra, a momenti invece di riflessione di confronto più generale sull'impatto che il nostro progetto può avere nella realtà dei più di 5 mila comuni delle otto regioni del mezzogiorno a cui questo progetto è destinato. Devo dire che rispetto all'impatto di questa iniziativa, questo contesto in cui noi ci muoviamo, naturalmente è evidente che questa epidemia o questa strategia che è stata messa in essere del distanziamento sociale per contrastare questa epidemia rimette sicuramente al centro il tema della terra e il tema del paesaggio, ma anche il tema delle aree interne, che naturalmente offrono quel contesto territoriale in cui questo tipo di progetti si vanno a collocare per motivi… Francesco, ti chiedo scusa se ti interrompo, ti chiederei gentilmente di alzare il volume del tuo microfono perché lamentano che è un po' basso, per cui ti guido dall'icona del microfono, c'è una freccina bianca, si regola volume microfono, ok grazie. Ecco qua, spero che si senta meglio, ma stavo concludendo dicendo che è importante in questo momento lavorare a questo tempo perché sicuramente la strategia di contrasto al Covid mette al centro il tema della terra e del paesaggio e lo rimette al centro non semplicemente perché sicuramente questa pandemia ha interessato e interessa di meno per fortuna le aree interne, perché probabilmente le aree interne hanno maggiore facilità a contrastare perché ci sono case un po' più grandi, c'è la disponibilità di giardino e non fosse altro c'è la disponibilità anche del paesaggio, che è cosa diversa invece perché deve stare a casa della disponibilità di un palazzone naturalmente. Ovviamente nelle aree interne si produrranno e intorno alla terra si produrranno anche delle riflessioni approfondite su quello che dovrà succedere per la ripartenza perché la filiera agricola è importantissima come ovvio è sempre stata importante oggi ancora di più per il cibo, per alimentare naturalmente le persone e quindi è importante lavorare al recupero di una filiera agricola che sia in grado anche nella prospettiva di mantenere degli elementi di sostenibilità ambientale, perché in questi territori il distanziamento sociale anche nella ripresa è un fatto che un po' sta nelle corde, perché in alcuni casi sappiamo che non è che cambia molto e che quindi lo spopolamento nella ripresa può diventare un elemento e un fattore anche di possibile ripresa, una leva, perché tutto quello che abbiamo detto e che si è detto in questi anni su servizi di territorio per valorizzare anche occasioni di lavoro che possono essere utili per aiutare il paese ad uscire da questa crisi e da questo impatto sull'economia che è molto pesante in questo Covid. Poi ci sono anche altri temi, la sostenibilità ambientale, l'energia, ci sono tantissimi temi che ci fanno capire come avere consapevolezza di collocare progetti a partire dalla terra, progetti di valorizzazione sostenibile della terra che stiano dentro strategie di sviluppo, ecco ci sono tanti sintomi che ci dicono che in questo momento questo tema è particolarmente importante, più di prima è sempre stato importante, ma se possibile è più importante di prima, quindi io credo che oggi è l'occasione giusta per fare una riflessione e per capire noi con il nostro progetto che minimo contributo possiamo dare a questo processo di rilancio del paese anche dopo l'epidemia. Quindi io mi fermo qua, ringrazio ancora i partecipanti al nostro webinar e do subito la parola a Sabrina Lucapelli. Mi sentite? Buongiorno? Perfetto. Ok, perfetto, buongiorno, innanzitutto un grazie speciale agli amici di ANCI, di IFEL e del progetto Sibater che come sapete è un progetto che ho sempre seguito con estrema attenzione, poi adesso che sto scoprendo tutto questo mondo di webinar di formazione, sicuramente vi seguirò anche prossimamente. Allora io vorrei dire che questo intervento come sapete è costituito di due parti, quindi io cercherò di fare una parte un pochino più introduttiva soffermandomi sul concetto proprio di strategia territoriale, quindi ci tengo a dire che anche se userò degli esempi, in particolare uno perché poi io mi soffermerò maggiormente sul caso delle madonie, ne parlerò utilizzando il caso della metodologia utilizzata nella strategia nazionale delle aree interne, in realtà cercherò di fare un ragionamento un pochino più generale. Cioè quello che io vorrei, che poi mi è stato chiesto anche da Francesco quando mi ha proposto questo webinar, è proprio l'idea di far capire come il tema della terra e dell'utilizzo della terra possa emergere in una visione più generale strategica di un territorio. Quindi partiamo dal concetto di strategia territoriale, cioè che cos'è una strategia territoriale, quando si decide di utilizzarla e perché? Allora c'è sempre un movente, no? Cioè si decide di lavorare con un approccio strategico territoriale sostanzialmente quando, come ho scritto su questo slide, ci si trova in una situazione di squilibrio, che può essere uno squilibrio demografico, socio-economico, di disuguaglianza territoriale, di tutti questi elementi insieme, che da allora possono essere magari più concomitanti e comunque si decide di lavorare sulla costruzione di una nuova visione di sviluppo del territorio. Questo perché possa essere efficace ed efficiente in un cambio socio-economico, di un equilibrio e squilibrio del territorio, deve ovviamente basarsi su delle scelte della comunità e queste scelte devono essere delle scelte che usufruiscono delle capacità istituzionali, delle istituzioni di quel territorio, ma anche della partecipazione di diversi soggetti attivi, quello che noi abbiamo chiamato poi durante il percorso della strategia soggetti rilevanti. Quindi quello che si cerca di fare attraverso la costruzione di un percorso strategico è proprio aprire a nuovi soggetti e nuove reti. Il concetto di rete quindi di allargare la visione e le capacità dei territori e soprattutto noi abbiamo insistito moltissimo, io parlo ovviamente di strategia fase 1, cioè quella che io ho seguito e della quale sono stata un attivo attore, quello che abbiamo fatto è stato cercare di aprire i squilibri dei territori a nuovi attori, proprio riuscire a portare, ad aprire la comunità, a farla crescere attraverso nuovi attori. Evidentemente proprio perché si va alla di strategia l'obiettivo è trovare nuovi equilibri strutturali e a lungo termine. Ora, qual è stato il vantaggio nella slide seguente? Mi voglio soffermare sul fatto che aver lavorato su diversi territori e in un momento all'interno di una strategia nazionale ovviamente ha avuto un vantaggio particolare, poi vedremo pure perché, anche sul tema dell'uso della terra, poi ci caleremo sul tema di oggi. Un vantaggio perché ovviamente stavamo dentro una sfida nazionale e quindi ci muovevamo dentro un concetto di geografia condivisa, anche se poi questa geografia, come sappiamo, ha avuto delle particolari che poi tradotta in territori con caratteristiche assai differenziate. Si è spinto molto sull'idea che si dovesse lavorare sia sulla parte dello sviluppo economico, ma anche sulla parte dei servizi e quindi in un ragionamento sulla terra, come vedremo anche nel caso delle madonie, dentro una strategia non è mai soltanto un tema di ottenimento, riqualificazione e ricomposizione fondiaria. Il ragionamento è ovviamente un ragionamento che parte dalle persone, quindi la necessità di dare nuove opportunità di lavoro a giovani e in questo caso delle madonie e per poter individuare poi meccanismi migliori per poter accedere alla terra, evidentemente anche preoccuparsi di una serie di esigenze che sono poi le esigenze quelle di fare impresa e di formare i soggetti che se ne dovranno occupare. Quindi il lavoro strategico implica inevitabilmente, lo ha implicato i SNAI, ma lo implicherebbe anche in altre tipologie, e lo abbiamo visto anche in precedenza alla strategia con i PIT o lo abbiamo visto nell'ambito comunitario con il CLLD, i leader e implicano un lavoro multilivello, quindi diversi attori che lavorano con l'obiettivo ultimo di individuare e di creare e costruire una strategia territoriale. Il caso della SNAI, come sapete, nel caso della strategia abbiamo lavorato moltissimo sia con una fase DESC, quindi costruzione di una serie di strumenti di conoscenza sia per la definizione del territorio che per la costruzione di quello che noi abbiamo chiamato l'open kit a rentenne, che in realtà è un insieme di indicatori che ci hanno aiutato moltissimo sia nella fase di costruzione dei bisogni del territorio che nella fase più concreta della coprogettazione e poi un grosso lavoro di campo, quindi un grosso lavoro di campo dentro il quale adesso io entrerò nelle slide seguenti per farvi capire meglio il metodo che è stato utilizzato. L'importanza di soffermarsi sulla metodologia ha a che fare anche con poi quelle che si sono dimostrate essere alcune scelte di territori sui quali io mi soffermerò in modo molto superficiale oggi, perché questa non è una presentazione della strategia, ma proprio del tema di come i territori hanno fatto scelte che hanno messo al cuore della discussione il tema dell'uso della terra. Mi soffermo qui su una slide non particolarmente aggiornata, devo dire che con Francesco e con Clega potremmo poi andare a vedere come è stata l'evoluzione, io adesso allo Stato diciamo a maggio 2019, ma questo non importa, questo vuole semplicemente dire che queste aggregazioni di sindaci che erano poi soggetti attori insieme alla loro comunità della strategia nazionale e delle aree intenne, quando lo Stato e le regioni hanno chiesto loro di aggregarsi secondo sistemi territoriali permanenti, io ho scelto questa slide per dire che i sindaci hanno fatto delle scelte specifiche e in particolare mi interessa farvi vedere come molte di queste agglomerazioni hanno scelto il catastro e la protezione civile, tutte e due funzioni che evidentemente hanno molto a che fare con la protezione del territorio e l'uso del suolo. D'altra parte una consapevolezza del destino, della gestione del bene primo che è la terra, è una consapevolezza e mi fa piacere ricordarlo qui oggi, che non ha soltanto a che vedere con il possibile uso economico, quindi il fare impresa e fare impresa per i giovani che è quello invece su cui le madonie si sono soffermate e su cui oggi ragioneremo maggiormente, ma in realtà è un'esigenza che ha a che fare anche con un uso appropriato del territorio, tant'è vero che pure nell'area madonita, come sappiamo, è un'area che ha un forte problema di dissesto idrogeologico e quindi di tenuta del territorio. Vedo qua questa forte enfasi che i nostri territori hanno voluto dare proprio sulla funzione della protezione civile. Andiamo nella slide seguente, qui mi soffermo su alcuni degli indicatori che ci hanno guidato, penso che Daniela lo farà con maggiore precisione, ma fatemi un attivino riflettere con voi sul fatto che quando si lavora su un territorio, nell'ambito di una costruzione di una strategia nazionale, evidentemente, una strategia territoriale, scusatemi, evidentemente sono tanti gli aspetti sui quali noi abbiamo guardato e riflettuto con i territori e con i sindaci. Innanzitutto l'aspetto che era quello che ci guidava più di tutti era l'aspetto demografico, ma in realtà oggi io mi soffermerò con voi su alcuni degli indicatori agricoli e di uso del territorio, che abbiamo scelto nella fase iniziale della strategia perché erano degli indicatori che ci dovevano guidare, cioè ci dovevano far capire, ovviamente poi attraverso un più approfondito confronto con gli attori del territorio, gli imprenditori e le parti economiche e sociali, ci dovevano far capire un attimino su che tipo di territorio ci trovavamo e stavamo lavorando, quindi abbiamo sempre guardato all'uso della terra in termini di superficie agricola utilizzata, percentuali di forestazione, presenza e assenza di aree protette, presenza e assenza di specializzazione agricola, ovviamente io non mi soffermerò su delle specificità statistiche sulle quali posso darvi però se ci fossero delle curiosità tutti i chiarimenti necessari, abbiamo utilizzato alcuni indicatori che ci dicevano di che tipo di settore agricolo quanto dinamico fosse o meno dinamico, l'età media del conduttore agricolo, lavori in full time o part time, sappiamo che una forte presenza di part time nel settore agricolo significa molto spesso anche una certa dinamicità, cioè il fatto che non si fa solo agricoltura ma si fa in part time agricoltura, ma si fa un'agricoltura più multifunzionale, agriturismi, quindi tutto quel tema di agricoltura e turismo che poi molto spesso nei territori compare insieme. e ecco le fasi che noi abbiamo utilizzato, quindi la costruzione di una bozza di strategia, un forte, e qui ci soffermeremo molto sui lavori di scouting, quindi un forte confronto di animazione e di coprogettazione con i diversi attori presenti. Quello che si è cercato di fare è partendo dai bisogni e dalle risorse effettivamente disponibili, quindi non potenziali ma presenti sui territori, si sono immaginate delle possibili riuscite, cioè abbiamo parlato nel gruppo di ricerca e di polisi di filiere cognitive, cioè comunque di un'idea portante intorno alla quale puoi poter costruire piano piano un intervento di tipo di tipo più integrato e quindi facendo leva soprattutto sulle forze vive. Questo è molto importante perché anche qui, torniamo al caso delle Marronie, proprio per il tema, mentre il tema della terra era estremamente sentito, era sentito e è stato messo subito al cuore dell'idea portante di questo territorio che come vedremo di seguito ha deciso di diventare un territorio che rivalutasse tutte le filiere corte, le filiere di produzione di qualità, ma anche un territorio di autonomia energetica. Intorno all'idea della terra come cuore, quindi questo programma anche proprio di cibo, di cibo sano, di salute che poi è estremamente coerente con il momento che noi viviamo, forse in un caso di strategia territoriale è importante guardare diversi aspetti, quindi non basta la terra, ma ci vuole anche un investimento su chi poi deve lavorarla, quindi una formazione dei giovani e come vedremo anche delle scelte specifiche che hanno fatto le Marronie sulla scuola. Qui è come i diversi attori che, vedete i diversi attori che hanno lavorato nei focus group, non devo andare un po' veloce perché vedo che il tempo vola, però qui mi soffermo un attimo sui bisogni e le possibili soluzioni, perché questo ci interessa molto con il tema di oggi, cioè le aree si sono soffermate su definire, come vi dicevo molto spesso, un prodotto turistico, forme di incentivi per l'ingresso di nuovi agricoltori, l'accesso alla terra, proprio il tema della ricomposizione fondiaria, la gestione del bosco e delle filiere produttive, degli interventi in materiali di eminiazione territoriale e di ricercazione. Io mi soffermo su questa perché la parte... Allora, c'è stato qualche problema con la relatrice, deve aver avuto qualche problema con la connessione, aspettiamo qualche secondo nell'attesa che si possa collegare, nel frattempo vi do qualche informazione tecnica, come vi abbiamo scritto pochi istanti fa in chat, il materiale didattico sarà a vostra disposizione a partire da domani, sia sul nostro portale della Fondazione IFEL, sia anche sul nostro canale YouTube. Ok, vedo che la dottoressa si è collegata. Sì, sì, io ci sono. Ecco, adesso, diciamo, mi soffermo più sui dati della Sicilia, molto rapidamente perché il tempo vola. Però, ecco, nel caso delle Madonie, diciamo, noi partivamo da una realtà dove innanzitutto vedevamo che c'era un andamento particolare proprio sulla SAO, sulla superficie agricola utilizzata, quindi un andamento in crescita a fronte invece di un andamento in diminuzione di tutta l'Italia, e poi il fatto che questo territorio si caratterizzasse per una particolare specializzazione proprio nel settore agroalimentare. Questi due numeri in eretto che vedete, queste sono le Madonie, la seconda colonna. Da questo ragionamento poi abbiamo scoperto pure che il territorio invece era caratterizzato da una forte deficienza dal punto di vista dell'apprendimento della matematica, quindi l'intenzione è anche di sviluppare tutto un investimento particolare sulla scuola e anche in termini di laboratori e di una nuova sensibilità dei ragazzi alle tecnologie. Ricordiamoci che questo è un territorio che poi è anche caratterizzato per grosse capacità tecnologiche riconosciute a livello internazionale e mondiale. Eccoci sul territorio che ci interessano, le Madonie come sapete sono proprio le montagne sopra Palermo, questa è l'area, 21 comuni, un forte spopolamento dal 71 al 2011, la decisione di fare un'unica unione per le Madonie, proprio grazie alla strategia, quindi 21 sindaci che lavorano insieme su un grosso numero importante di funzioni. L'Unione dei Comuni infatti ha deciso di mettere insieme proprio l'ufficio unico, la gestione unica, la centrale unica di committenza, l'organizzazione e la gestione dei servizi scolastici e partivamo da una situazione in cui appunto c'era un grosso spopolamento, classi molto piccole a livello di scuola, con una scuola molto parcellizzata, un deficit in matematica, un forte indebillimento delle situazioni sanitarie, ma soprattutto l'affermazione di un'agricoltura meccanizzata con l'abbandono delle terre immaginarie ed ampie e un grosso, diciamo, sottoutilizzo di quelli che hanno in un tempo proprio seminativi e tascoli. Sono sicura che su questa parte più tecnica poi entrerà maggiormente Daniela, comunque al contempo vedevamo anche che c'era un nuovo insediamento, ovviamente vedevamo delle luci, cioè in questo contesto molto difficile vedevamo le luci di nuovi giovani neururali che bustavano la porta, il 50% delle specie mediterranee presenti in questo territorio, un parco, il geoparco e una buona capacità ricettiva, cheppure è una cosa che in molte arentenne non abbiamo visto. L'area pertanto ha deciso un nuovo modello di alimentazione, come dicevo prima, di consumatori, di produttori e di cittadini impegnati in una nuova specializzazione di alimentazione, e quindi già nel primo documento di questo territorio troviamo proprio l'idea di facilitare l'ingresso ai nuovi giovani agricoltori partendo dalle esperienze positive esistenti. Questo lo voglio ricordare, allora il tema dell'uso della terra e dell'accesso alla terra, questo lo dico a tutti voi di Sibater, così magari potete anche ricoperare questi materiali, è emerso come centrale già nel 2016, tant'è vero che abbiamo deciso proprio in questo territorio di organizzare un seminario che secondo me è stato il primo, c'era una federazione in noce, cioè la federazione delle arentenne ancora non era stata costituita, però in realtà noi abbiamo già fatto questo, si può considerare Francesco, io credo, il primo seminario della federazione delle arentenne proprio su questo tema. In questa giornata importante a Pollina si è dibattuto molto sull'accesso alle terre pubbliche, accesso alle terre private e le politiche necessarie per farvi fronte. Le madolie in particolare hanno scritto un disegno strategico che ha come risultato atteso proprio il miglioramento delle competenze degli allievi e quindi il miglioramento della rete scolastica, la diffusione della società della conoscenza nel mondo della scuola e della formazione, attraverso come dicevo prima lo smart school e dei percorsi formativi particolari proprio per i giovani e per le competenze dei giovani, a crescere la forza lavoro attraverso la mobilità del rinsedimento lavorativo e quindi qui veniamo alle cose che ci riguardano più in particolare, il risultato atteso infatti, l'indicatore di risultato è proprio la mappatura dinamica dei territori pubblici e privati, quindi questo territorio si è impegnato a costruire questa mappatura e si finanzia proprio un piano del Cib, della mappatura dinamica dei territori, dei percorsi di apprendimento per i giovani contagi per il futuro e la promozione di nuovi percati e l'innovazione. Qui vediamo, ho voluto portare una slide, ringrazio Alessandro Ficile per avermela data, come ringrazio anche Daniela Luisi per le slide più metodologiche che abbiamo condiviso. Quest'idea della filiera, della valorizzazione delle filiere argomentari è al cuore della strategia di questo territorio, proprio anche attraverso, e qui ci tengo, credo che sia il mio ruolo, far capire come il tema della scuola è intervenuto proprio a sostegno del tema del riordino fondiario e del maggiore utilizzo del riordino fondiario, tant'è vero che questo territorio ha deciso proprio di creare una fondazione di partecipazione per un ITS, ma donna di tecnologie e sistemi agroalimentari. Ci tengo a ricordare che questo territorio non esisteva come come distritto scolastico, è invece iniziato a esistere come distritto scolastico, scusate l'interruzione, la dottoressa Lucatelli sta rientrando, credo sia rientrata. Dottoressa, dovrebbe riavviare microfono e webcam, scusate l'interruzione, ribadiamo quanto già detto dal collega Francesco Carta, chiunque fosse collegato in remoto tramite piattaforme come Citrix, consigliamo di effettuare un collegamento con la rete locale, purtroppo questi tipi di piattaforme danno delle volte problemi. Io direi che passerei la parola a questo punto alla dottoressa Storti, così proseguiamo nel webinar, poi se mai Sabrina quando rientra la facciamo completare alla fine dell'intervento. Perfetto, allora chiediamo alla dottoressa Storti di abilitare la sua webcam. Eccomi, ci sono, mi vedete? Sì, sì. Ok, aspetto le slide, sì. Le slide, sì, sì. Prego, prego dottoressa. Sabrina, diciamo, ha fatto un po' il quadro per quello che riguarda la contestualizzazione rispetto alle strategie locali, alle strategie, diciamo, al quadro strategico a livello locale, a come si colloca nell'ambito dell'Arnai questo tema. A me è stato chiesto di fare un focus sulle esperienze di accesso alla terra e strategie locali, un po' più, diciamo, nel merito delle azioni, diciamo, di quali sono gli elementi di successo e le criticità incontrate in queste esperienze sul territorio. Ok, la presentazione è strutturata in questo modo. Allora, il concetto è che questo tipo di strategie si collocano all'intersezione di due dimensioni. La dimensione che è quella della strumentazione esistente a livello nazionale del quadro legislativo che può supportare azioni sulla terra e l'altra è, diciamo, un po' più trascurata rispetto a questa tipologia di azioni, nelle prassi operative, è la collocazione all'interno di un quadro strategico a livello territoriale, quindi di una strategia territoriale, perché questo tipo di azioni non può essere efficace se non si innesta in una riattivazione complessiva a livello territoriale che coinvolga gli ambiti, diciamo, utili perché questa terra si riattivi, che non sono solo ambiti produttivi, ma anche di presidio del territorio, di funzione ambientale. Quindi se non c'è una strategia dietro che rende questa azione sulla terra, diciamo, in cui si incassa l'azione sulla terra, il rischio è che si rimanga, diciamo, inefficaci, quindi che non si abbia, diciamo, una forza sufficiente per fare arrivare questa strategia a produrre dei risultati coerei, consistenti. Quindi le due dimensioni che ci sono nella mia presentazione sono un po' queste due, cioè la collocazione nell'ambito di un quadro strategico e il quadro normativo e di strumentazione a livello nazionale. Ovviamente, diciamo, il quadro a livello nazionale io lo passerò velocemente perché ci sono una serie di attività anche nell'ambito di Simbater su questo tema che hanno fatto una ricognizione, che hanno analizzato il problema da più punti di vista, però lo richiamerò perché, diciamo, in qualche modo ci dà delle coordinate nell'analisi delle azioni che avverrà poi successivamente. Per quello che riguarda il quadro delle strategie a livello locale, io fondamentalmente tocco due, diciamo, possibili tipologie. Una è come si è collocata questa azione nell'ambito di strategie territoriali della SNAI e l'altra è come queste azioni si sono collocate nell'ambito di strategie sostenute a livello locale da fondazioni e da associazioni su una base principalmente di volontariato, no? Quindi con poche risorse finanziarie ma con una grande motivazione da parte di alcuni soggetti locali che hanno anche intercettato poi, diciamo, centri di competenza che potevano supportare il processo. Quindi questi sono i due dossi ambiti. La principale differenza tra questi due ambiti è questa, cioè che come ha illustrato Sabrina, nella strategia SNAI, diciamo, la strategia territoriale di cui parliamo è una strategia a tutto tondo, in cui si cerca di portare dentro gli altri elementi, quindi la mobilità, la scuola, la salute. E sicuramente essendo inglobata, cioè quando una strategia sulla terra si ingloba in una strategia più ampia come questa, ci sono molte più sinergie che si possono mettere a sistema. Quindi non solo quella rispetto alle fine agricole, ma anche ad esempio un'azione sinergica rispetto a come questo tema, il tema dell'agricoltura e della sostenibilità ambientale, viene utilizzato, viene sostenuto nell'ambito dei sistemi dell'educazione. Quindi molte aree hanno proposto e hanno messo in essere, hanno finanziato azioni sinergiche, azioni che sostengono l'azione che si fa sulla terra dal punto di vista anche, diciamo, dell'evoluzione necessaria sul fronte culturale, a partire dalla scuola, dai giovani, ma anche arrivando ai laboratori più professionalizzanti. E quindi molte strategie hanno lavorato su questi temi ponendo, diciamo, anche a disposizione di questo tipo di focalizzazione, che è una delle gambe su cui una strategia territoriale, diciamo, che rimetta in gioco la terra, può trovare, oddio, mi sentite, sì, può trovare forza. Quindi molte strategie hanno lavorato su questo tema, utilizzando sia il fondo sociale, sia la legge di stabilità in alcuni contesti, a seconda dei livelli in cui queste azioni venivano. Quindi questa, diciamo, è una grande forza. Quando parliamo invece di strategie locali che si basano su un'azione, diciamo, di volontariato, sul supporto delle fondazioni, si riesce di meno a tenere nel quadro tutti i vari elementi di contesto e la strategia che si pone in essere è molto più focalizzata sugli aspetti più strettamente legati, diciamo, agli ambiti ambientali, diciamo, e all'utilizzo, diciamo, di questa terra recuperata, diciamo, in ambiti che sono limitrofi, quindi il turismo rurale piuttosto che la funzione ambientale. Però non si riesce a cogliere, diciamo, ad incertare nella stessa maniera la società civile, dei sistemi educativi, la formazione professionale, come poteva invece, come è avvenuto di fatto nell'ambito della strategia interna. Io però, diciamo, focalizzerò principalmente, quindi questa è una contestualizzazione. Quello che io proverò a fare invece è focalizzare di più sul percorso, diciamo, logico che ha portato ad alcune azioni, diciamo, focalizzate sull'accesso alla terra nell'ambito delle strategie SNAI. Quindi, diciamo, penso che più o meno, diciamo, spero di essere stata più o meno chiara. Quindi, molto velocemente, proprio volando, quali sono gli strumenti, i principali strumenti di azioni per l'uso sostenibile a livello nazionale, che poi sono esperienze che sono sviluppate per lo più nell'ultimo decennio, negli ultimi 10-15 anni. Quindi, parliamo di iniziative nazionali che riguardano banche della terra, la misura banca della terra, che prevede che i terreni comunali abbandonati vengano assegnati a giovani sulla base di un progetto di valorizzazione, su cui, diciamo, lavora Sibater. E le banche della terra regionali, prima tra tutte quella toscana e anche quella ligore, che sono quelle, le esperienze più avanzate, finalizzate a costruire e inventare aggiornati dei terreni e a mettere a disposizione di imprenditori privati. Ovviamente, diciamo, queste strumentazioni funzionano più o meno bene in diversi contesti. Ovviamente funzionano meglio, diciamo, in contesti, diciamo, di pianura o in cui c'è una mobilitazione, una mobilità maggiore fondiaria. Nelle aree, invece, più marginali, dove c'è stato un abbandono di questi terreni, che hanno anche una minore appetibilità economica, questo tipo di strumentazione deve essere sostenuta di più da un'intercettazione delle due dimensioni, cioè la dimensione della strumentazione a livello nazionale e l'intersecazione con le strategie territoriali che possono sostenere questa valorizzazione a livello locale, perché solo uno dei due pezzi da solo non ce la fa. Quindi, altre iniziative regionali sono state avviate, una, diciamo, relativamente all'affitto dei terreni abbandonati o incolti, mettendo nel quadro i giovani, quindi ci sono una serie di iniziative che mettono, diciamo, al centro questo aspetto. Molto importante l'esperienza dell'associazionismo fondiario, che mutua esperienze dalla Francia e prime esperienze in Italia, diciamo, sono quelle localizzate nel caso del Piemonte e queste esperienze hanno anche ispirato nel quadro della strategia interna, perché c'è stata una contaminazione, un confronto anche a partire da Pollina, che ha portato anche a riprendere alcune di queste strumentazioni nell'ambito delle sperimentazioni fatte nelle aree SNAI. Quindi questa è sicuramente un'esperienza molto importante. E poi ci sono delle esperienze locali, tra cui una, diciamo, le esperienze locali, tra cui quella della SNAI, dove ci sono dei focus su accesso alla terra nell'ambito delle strategie territoriali, quindi con azioni, interventi finanziati nell'ambito delle APQ della SNAI e anche un progetto che è uno, diciamo, il terreno originale, che è uno di quelli che abbiamo preso come caso studio per analizzare gli elementi, cioè per ragionare insieme su quali sono gli elementi utili per attivare questo tipo di strategia a livello locale. Quindi qui, diciamo, ho riportato i riferimenti per approfondire in testa a tutti, in ordine alfabetico, ma anche, diciamo, come, diciamo, focalizzazione molto utile. Il va bene è sul sentimento delle terre messo appunto nell'ambito del progetto Sibater. Quindi queste ovviamente ve le lascio, potete, diciamo, andare tranquillamente ad attingere. Entriamo ora nel merito più di quelle che sono le declinazioni, diciamo, delle azioni di accesso alla terra nell'ambito delle strategie locali, nelle aree interne e montane. Quindi non solo SNAI, ma c'è anche questo caso in cui le aree sono sempre interne e montane, ma, diciamo, con modalità diverse da quelle della SNAI. Allora, prima di tutto, diciamo, partendo da quello che è il fabbisogno, cioè la cosa che va detta rispetto a questo tema e a come è stato devinato l'ambito della SNAI. Allora, il tema dell'accesso alla terra emerge in una qualche misura in tutti gli ascolti territoriali, io direi praticamente in quasi tutti gli ascolti territoriali che abbiamo fatto sull'ambito agricolo, no? Sull'ambito agricolo e forestale. Quindi questo tema è un tema ricorrente, quindi se ne parla da più punti di vista, no? Quindi, diciamo, dal punto di vista dell'esigenza di poter accedere a un terreno che non è disponibile in queste aree per avviare iniziative innovative o per, diciamo, avviare su più larga scala iniziative di fruizione ambientale collegate anche alla fruizione turistica, diciamo, quindi di recupero di terreni che hanno anche una problematica, diciamo, di presidio territoriale, no? Di presidio proprio ambientale. E quindi questo è un tema. Il tema, diciamo, legato all'avanzare della foresta, quindi alla problematica dell'abbandono dell'agricoltura che nelle aree montane in particolare tocca delle punte altissime, quindi l'abbandono della superficie agricola utilizzata, diciamo, mediamente nelle aree snaie è intorno al 25%, ma ci sono aree montane nella fascia alpina e appenninica che raggiungono, che superano il 50% in termini di abbandono della superficie agricola. E quindi c'è poi questa problematica all'avanzare della foresta, che pone tutta una serie di problematiche anche sull'utilizzo, l'esistenza, diciamo, anche di una presenza congiunta di pascoli arborati, diciamo, che pone anche una problematica di riconoscimento dal punto di vista, diciamo, dell'apparato burocratico, no? Del fatto che esistono anche, diciamo, terreni che hanno questo tipo di caratterizzazione che non vengono riconosciuti invece come terreni, diciamo, di prato e pascolo. Però, diciamo, quello che emerge, diciamo, l'altra cosa, diciamo, l'altro elemento è quindi la difficoltà anche a ricostruire un quadro dei riditi di proprietà, la polverizzazione, la frammentazione, le difficoltà legate anche a usi speculativi dei terreni, quindi la possibilità degli allevatori di accedere a questa, diciamo, di accedere all'utilizzo della terra per fini legati agli allevamenti. Però, in tutti questi casi, quindi, quello che viene fuori è che c'è una focalizzazione e una strategicità molto importante di questo tema che diventa, diciamo, anche un tema, diciamo, di rimente per alcune azioni che si decide di impostare della strategia. Quindi, andando avanti, ok, come questo tema viene poi declinato nell'ambito della SNAI? Quindi, non, diciamo, questo tema è un tema, diciamo, che richiede, diciamo, un tema effettivamente molto complesso nella sua attuazione operativa. Quindi, seppure, diciamo, è una tematica emersa in quasi tutti gli ascolti a livello territoriale, quello che viene fuori quando si va ad analizzare le strategie che sono state poi messe in atto è che, diciamo, che mentre questo tema, diciamo, alcune delle scettature del tema vengono prese in carico nell'ambito delle strategie, per esempio riguardo al miglioramento fondiario, al recupero culturale produttivo di alcuni terreni, all'uso che si può fare di alcuni, diciamo, nell'ambito di una valorizzazione turistica dei terreni, di alcune aree, diciamo, di protezione ambientale e quindi rimetterle in gioco. Quindi c'è un tema che in qualche modo l'esigenza di avere una recuperazione del paesaggio, la manutenzione, l'esigenza di avere una mappatura dei terreni, diciamo, funzionalmente, un loro recupero produttivo per la messa in essere di alcune azioni. Quindi ci sono vari elementi frammentariamente emergono in quasi tutte le strategie, solo al poche però hanno sviluppato un'azione più organica su questo tema. Io direi che, diciamo, non è taustiva, diciamo, in questo momento la ricognizione che abbiamo fatto, perché manca, diciamo, alcune delle strategie approvate negli ultimi mesi, però diciamo che sono 5 o 6 le strategie in cui c'è un focus, diciamo, una strategia più organica sviluppata sul tema dell'accesso alla terra. I risultati, diciamo, queste azioni che vengono poste in essere si pongono risultati, si pongono obiettivi diversi, quindi, diciamo, focalizzano su risultati, guardano al problema da punti di vista diversi. Quindi ovviamente se l'utilizzo della terra recuperata e l'utilizzo per le filiere agricole, diciamo, il risultato che ci si pone è quello di un aumento della superficie agricola disponibile. Se invece c'è una valenza maggiore rispetto alla funzione ambientale troviamo strategie in cui l'obiettivo che ci si pone con questa azione è quello della conservazione della biodiversità o ancora, come nel caso delle Madonie, il miglioramento dell'occupabilità dei giovani. Cioè nel caso delle Madonie questo tema dell'accesso alla terra è stato molto legato a dare uno spazio di azione e a ridare, diciamo, una capacità ai giovani di rientrare in questo settore e di impattare con progetti innovativi. Quindi lì, diciamo, le azioni che si sono fatte su questo tema hanno come focus principalmente quello della miglioramento dell'occupabilità dei giovani. Quindi un altro elemento di queste strategie è che le strategie SNAI, dove c'è o sviluppata, diciamo, in maniera più organica l'azione sull'accesso alla terra, consolidano esperienze già in corso a livello locale o riprendono in alcuni casi pratiche già sperimentate a livello nazionale. Quindi in sostanza io direi che le cose principali sono, diciamo, il caso per esempio delle Madonie che riprende, che si basa e parte da un'esperienza che era già in corso a livello locale e il tema, diciamo, lo strumento dell'associazionismo fondiario che viene ripreso in diverse azioni che vengono impostate nelle aree SNAI, compresa quella del comelico che poi analizzeremo. Quindi le aree, diciamo, su cui focalizziamo l'attenzione per fare un po', diciamo, per dare un po' un'idea di quelle che sono sia le creatività che gli elementi di, diciamo, di successo, no? Gli elementi positivi di questo tipo di esperienze sviluppate dalla prospettiva locale, quindi è innestate nell'ambito di una strategia territoriale, sono tre, quindi due sono aree interne, quindi l'area interna di Madonie dove, diciamo, viene, è stato inserito nell'APQ, è stato definito un progetto di ricercazione e formazione che parte da un censimento attivo dei terreni pubblici, ma mette nel quadro, come vedremo, altre azioni, l'area interna del comelico che si propone la costituzione dell'associazione fondiaria sperimentale e l'area che invece non è un'area interna della SNAI, ma è un'area interna, sempre un'area marginale, delle Langhe Monregalesi in provincia di Cuneo con il progetto Terre Originali. Come viene sviluppato il tema dell'accesso alla terra nel caso delle Madonie? Quindi la genesi di questo progetto affonda le radici, diciamo, in un passato decente. Quindi nell'ambito, diciamo, nel 2013 era stato realizzato un corso di formazione finanziato dal comune di Scillato in cui avevano partecipato agenzie locali di sviluppo, avevano supportato il processo ed era stata coinvolta all'Università di Palermo in questo corso di formazione per giovani agricoltori dell'area. A seguito di questo corso, cioè questo corso fa un po' da facilitatore, da attivatore, da attivatore e a seguito di questo corso nascono su base principalmente volontaria, cioè un po' di volontariato, alcune, diciamo, iniziative che fanno un po' da facilitatore e da affiancamento e supporto a alcuni di questi giovani che avevano partecipato al corso per una start-up innovativa fondamentalmente. Da questa esperienza, quindi, nasce con questi elementi importantissimi, il tema della formazione, l'accompagnamento, l'affiancamento alla start-up e, diciamo, il collegamento anche con dei centri di competenza, perché qui nel quadro abbiamo, diciamo, l'Università di Palermo che, diciamo, attiva anche una rete rispetto a Slow Food, che poi sarà uno dei, diciamo, delle associazioni che sosterrà, diciamo, l'arrivo sul mercato di questa iniziativa che era nata fondamentalmente come iniziativa, diciamo, su base volontaristica, con un comodato uso da parte di anziani, produttori locali, a favore di questi giovani che avevano iniziato la loro attività. Quindi tutti questi elementi, diciamo, sono, diciamo, proprio l'ispirazione dell'azione che viene inserita dentro la strategia, dove si parte da questa cosa che nasceva in una maniera, da questa esperienza che nasceva in una maniera anche, non dico episodica, però, diciamo, spinta dalla motivazione, da soggetti motivati a livello locale, nelle associazioni locali, nelle fondazioni che avevano portato a realizzare questa attività e prova a strutturarla e a renderla, diciamo, un'azione, diciamo, strutturata dentro alla strategia. Il risultato atteso di questa azione che si struttura nella strategia è quello, appunto, di rigenerare il capitale umano del territorio, partendo da questo vincolo principale, che è la necessità di mettere a disposizione dei giovani che vogliono intraprendere un'attività su questi territori, la terra, una terra, diciamo, che possa, sottutilizzata, ma che possa essere riattivata in maniera abbastanza veloce e l'esigenza, quindi, per questo fine, di mappare, diciamo, questi terreni disponibili e avviarne il recupero funzionalmente, diciamo, un utilizzo di questo tipo che rimette in discussione i giovani. La soluzione attraverso cui questa cosa si realizza è un progetto di ricercazione e formazione, quindi i temi e gli elementi sono questi, cioè si fa, diciamo, la mappatura attiva del terreno, non è semplicemente fare una mappatura che rimane in un cassetto, ma è qualcosa che nella, diciamo, nell'azione che viene messa in essere nell'ambito della strategia cerca subito di trovare una sua utilizzazione, quindi si mette nel quadro questi corsi di formazione per dei giovani che poi, in qualche modo, dovranno diventare un incubatore, un luogo di facilitazione e a valle di questi corsi di formazione si prevede un'azione di affiancamento alle start-up che porta sempre nel quadro la competenza necessaria, anche tecnica, che serve a questi giovani per partire con queste iniziative. Quindi quali sono le azioni un po' le ho anticipate, no? Quindi le sinergie, diciamo, queste azioni quindi che abbiamo detto sono il sentimento attivo, la formazione, i percorsi di accompagnamento, l'affidamento poi a valle dei terreni ad associazioni di giovani che decidono di rimanere insediarsi, quindi sono stati presentati con tutti gli elementi che servono effettivamente per costruire una valorizzazione sul territorio di queste terre. Si crea anche una sinergia rispetto alla costituzione di un'associazione fondiaria Madonie che, diciamo, ha visto l'adesione di alcuni dei comuni nell'area a questa associazione. Le risorse messe a disposizione, questo è un altro, diciamo, io lo vedo come un successo della strategia, come un elemento positivo del fatto di inglobare questo tipo di azioni sulla terra nell'ambito di una strategia più ampia, territoriale, come quella della SNAI, che le risorse utilizzate per questa azione di ricerca, di ricerca, formazione azioni, provengono dal fondo sociale, quindi sono nel PO FS Sicilia, quindi non sono risorse dello sviluppo rurale. Passando, diciamo, invece all'altra esperienza, quella del Comelico, qui, diciamo, la focalizzazione, diciamo, emerge, l'esigenza emerge proprio nell'ambito dell'ascolto, cioè in cui esce fuori, inizia a venire in luce un progetto di, diciamo, di consolidamento delle filiere agricole nell'area e dal confronto, nell'ambito degli scouting, viene fuori, si parla di questa esperienza, della possibilità di avviare, diciamo, delle azioni di associazionismo fondiario, come un elemento che può aiutare a rimettere nel quadro dei terreni che sono, diciamo, non tutti abbandonati, in parte abbandonati, sottutilizzati, che però potrebbero diventare le gambe sulle quali basare un'azione di valorizzazione delle filiere agricole e di consolidamento. Quindi il risultato che si pone questa strategia è appunto quello di accrescere la superficie agricola utilizzata e parte dalle questioni che sono un po' di tutti i territori interni, però, diciamo, qui si focalizza principalmente su quello che è proprio l'eccessiva polverizzazione fondiaria, la presenza di terreni silenti, il fatto che in alcuni casi è anche complicato ricostruire la proprietà e si ritiene, diciamo, come soluzione che l'associazione fondiaria possa essere lo strumento adatto per lavorare su questo tema, quindi per ricostruire il quadro di questi terreni per ritrovare, diciamo, rimapparli, ritracciarli anche sul fronte degli aspetti legati alla proprietà e fare, costruire un piano di gestione, rimetterli in gioco, individuare quali sono gli interventi di infrastrutturazione e anche di servizio che servono a queste terre per essere rimesse, diciamo, nel quadro di una, in produzione e quindi per essere utilizzate nel quadro di una strategia focalizzata sulle filiere. Quindi, l'accesso alla terra, quindi qui abbiamo, no, sono andata già avanti, ma, vabbè, diciamo che più o meno ha, ecco qui, diciamo, no, no, la parte del finanziamento, più o meno le azioni ve le ho anticipate tutte, sono quelle classiche dell'associazione fondiaria, le risorse in questo caso vengono da fondi, diciamo, nazionali che sono veicolati attraverso il MIPAF e c'è anche un piccolo cofinanziamento privato da parte di una fondazione, centri studio trasfrontaliero di Comelico e Stappada. Passando, diciamo, all'ultimo caso, diciamo, che è l'unico che non si colloca nell'ambito della SNAI, che però è molto interessante perché è un precursore, diciamo, se vogliamo, della SNAI, perché nasce quando la SNAI stava iniziando a essere impostata, quindi nel 2013, e tiene dentro molti degli elementi che poi sono stati ripresi nelle due esperienze SNAI che abbiamo analizzato, ossia in quella, diciamo, secondo me, ricalca molto il caso delle madonie e però riprende anche degli elementi nel caso del Comelico, che poi però, diciamo, non sono, diciamo, sviluppati fino in fondo, anche per un problema di forza, perché se già nell'ambito della SNAI c'è una difficoltà ad avere la forza di mettere in piedi tutte le leve che servono per fare, diciamo, per costruire un'azione organica sul tema dell'accesso alla terra, qui è ancora più complesso perché si è lavorato a partire, diciamo, da un'azione su base volontaria principalmente, quindi prima la prima parte del percorso parte tutta con un lavoro, diciamo, da parte di volontari che hanno costruito tutta la progettazione e poi hanno cercato un piccolo finanziamento che ha aiutato, diciamo, il progetto a proseguire, però, diciamo, il finanziamento poi, come vedremo nella data successiva, è minimale, quindi è tutto, diciamo, frutto di una motivazione molto forte da parte dei soggetti coinvolti in questo progetto. Quindi il percorso nasce, diciamo, si pone nel quadro l'idea di dover aiutare le nuove generazioni e rappioparsi della terra, però poi nel suo sviluppo, diciamo, amplierà un po' il focus, nel senso che non sarà più semplicemente il focus innovazione giovani, ma giovani e progetti innovativi, quindi, diciamo, i progetti che poi verranno portati nel quadro dall'azione di questo progetto saranno anche progetti, diciamo, non necessariamente portati avanti da giovani, ma comunque progetti innovativi sul territorio. Quindi l'area in cui questa esperienza si colloca non è quella delle langhe, diciamo, della monocoltura delle langhe, ma è un'area, diciamo, più marginale, in cui le problematiche che condivide quest'area sono quelle delle aree interne, quindi delle aree interne che abbiamo analizzato precedentemente, quindi la marginalità, l'abbandono. Il risultato atteso anche qui è più connesso rispetto alla, diciamo, alla ripresa imprenditoriale, no, dell'agricoltura, quindi al riportare su questi territori un'attività agricola con un focus che rimetta in gioco questi terreni abbandonati e dia un ruolo anche ai giovani. Quindi non è, come nel caso Comedio, il focus, diciamo, mirato sulla parte di aumentare la superficie agricola, ma proprio di riattivazione imprenditoriale dell'ambito agricolo. I vincoli, diciamo, all'avvio delle attività imprenditoriali che sono percepiti da questo, da Chia, diciamo, dagli estensori del progetto che secondo me, diciamo, sono molto avanti proprio nella consapevolezza delle problematiche, è quello che non è tanto, diciamo, il fatto delle risorse che mancano, ma, diciamo, focalizza su due aspetti che sono, secondo me, aspetti capacitanti. L'assenza di condizioni ambientali, ambientali ed economiche che possono favorire buone opportunità e l'assenza di una facilitazione comune che sostenga queste azioni di, diciamo, creazioni di opportunità economiche. Quindi si pone l'accento proprio sull'esigenza di costruire anche una facilitazione a questi progetti. Quindi come si risolve questo problema? Quindi questo progetto decide di lavorare in rete con le forze che ci sono, quindi con gli attori locali, centri di competenza, gli incubatori, l'impresa, le fondazioni, i soggetti che sono disponibili a fare questo lavoro. I partner, come vedete, diciamo, comprendono un ampio range di soggetti che sono tutti gli attori rilevanti che secondo me devono essere chiamati in causa in un processo di valorizzazione delle terre a livello locale. No, non è una cosa che può essere risolta in solitario dall'imprenditore agricolo nell'ambito dell'attività, diciamo, che si risolve nei fondi agricoli, ma secondo me deve attivare tutta una serie di soggetti rilevanti che possono rendere possibili queste esperienze. E quindi come vedete, diciamo, c'è l'Associazione Contadini, delle Langhe, l'Università delle Scienze Eno-Gastronomiche, quindi i centri di competenza, il Comitio Agario di Mondovì che rappresenta quindi un attore che tiene nel quadro questi terreni, gli incubatori, quindi diciamo l'incubatore di imprese, di start-up in ambito sociale e ambientale, il forum del paesaggio e le fondazioni, quindi Banca Etica e Fondazione CRC. Quindi questa esperienza è molto esemplificativa perché dà un'idea di, diciamo, proprio di quello che rileva per costruire questo tipo di azione, di quante sono le interrelazioni e le gambe di cui si ha bisogno e quindi è la complessità. E questo ci conferma nel fatto che questo tipo di azioni trova una collocazione più naturale, diciamo, nell'intersezione tra la strumentazione nazionale e le strategie, e una strategia organica a livello territoriale. Quindi qui richiamiamo una serie di azioni che sono state messe in essere, quindi diciamo una mappatura dei terreni, l'attivazione del sportello informativo, l'attivazione di alcuni bandi, che di fatto questi bandi implicavano non un sostegno economico, ma un supporto, un affiancamento, una facilitazione tecnica per accedere ai banchi biregionali, agronomica, quindi diciamo chi partecipava a questi bandi aveva in mente che non andava a prendere una risorsa, ma una facilitazione, un supporto, un sostegno, un affiancamento. E da questo punto di vista è stato un successo perché comunque nelle due edizioni hanno partecipato 15 progetti, sono stati intercettati, uno di questi progetti sta andando avanti, diciamo, e ha attivato un'attività nuova imprenditorialmente ed è sostenuto da un giovane. Quindi qui diciamo semplicemente richiamo le risorse economiche, che sono veramente pochissime, 6 mila euro, e l'attività di montaneato sono le risorse utilizzate dal progetto e da questo progetto scaturiscono come attivazione ulteriori esperienze che si stanno definendo in questo momento ed è la costituzione dell'associazione fondiare mondegalese, che riguarda più o meno lo stesso ambito territoriale, forse anche più comuni di quelli che erano interessati del progetto, che erano 40, e che quindi diciamo in qualche modo si inizia un percorso a livello territoriale che ha portato anche a questo sviluppo dell'associazione fondiaria. Quindi vengo qua, diciamo, sono più o meno alla fine, che cosa impariamo da queste esperienze, quali sono gli elementi qualificanti? Un po', diciamo, ve l'ho anticipato nel corso dell'esposizione, no? Allora, sicuramente il focus sui luoghi è un elemento, diciamo, qualificante molto importante, perché il focus sui luoghi consente di individuare una valorizzazione economica possibile di questi terreni, compatibile con il suo valore contestuale di belle e comune, quindi contestuale a quel luogo, quindi consente di sostenere soluzioni e di trovare soluzioni tecnologiche, organizzative, appropriate ai fabbisogni di quei luoghi e possibili, cioè realizzabili in quel luogo anche in relazione ai soggetti presenti in quel luogo. Si basa su una partecipazione partecipata, no? Quindi in questo modo le persone sono quelle che vengono chiamate a dire quello di cui hanno bisogno, ma non solo, anche a dire quello che sono disposte a costruire, a fare, a mettere, diciamo, su questo percorso come impegno personale, no? Di motivazione, di partecipazione. Quindi la possibilità, diciamo, di innestarsi nell'ambito di uno strumento multiattore è un altro elemento qualificante molto importante, quindi che secondo me è, diciamo, un elemento irrinunciabile per l'efficacia delle azioni di valorizzazione di queste terre sui territori. E bisogna contemplare, quindi, la costruzione di una rete, tenere nel quadro le competenze, quindi intercettare i centri di competenza, no? Quindi le università, i centri che possono supportare anche sul fronte tecnologico delle conoscenze codificate, i processi che si mettono in piedi a livello territoriale sulle filiere agricole, ma non solo, creare un'interazione tra gli operatori locali e i ricercatori rispetto alla specificità di questi luoghi per trovare delle soluzioni. Quindi questo è un elemento importantissimo. Le soluzioni non devono essere locali nel senso che noi abbandoniamo i territori a cercare da soli le loro soluzioni, ma devono essere locali nel senso che l'istituzione pubblica nazionale, regionale, i centri di competenza devono essere messi nella situazione di poter sostenere sui territori la ricerca di soluzioni, diciamo, tailored su quei territori. Quindi è questo, diciamo, la specificità dei luoghi è questo, non è, diciamo, lasciare, diciamo, in solitario i luoghi, ma comunque accompagnare e creare un affiancamento. sta andando avanti, sono andata un po' troppo avanti, un attimo. Quindi si mette poi a fuoco anche l'esigenza di accompagnare questi processi con la formazione, l'informazione, il supporto alla progettazione, la coprogettazione che è un elemento importantissimo nell'ambito dell'Arnai, la facilitazione dell'innovazione, l'affiancamento alle start-up. Però quali sono le difficoltà. Quindi queste esperienze, come vi ho detto all'inizio, anche nell'ambito della SNAI, le esperienze di valorizzazione, di accesso, diciamo, focalizzate principalmente su azioni organiche per l'accesso alla terra nell'ambito della strategia, sono poco diffuse, quindi non solo nell'ambito della strategia, ma in generale a livello locale, sono poco diffuse perché? Per la complessità, per gli altri costi di transazione, perché, diciamo, nelle esperienze attuali si fondano principalmente su persone motivate dentro le istituzioni, sulle fondazioni, sull'azione dei comizi agrari, ma rimane episodica l'interfaccia istituzionale necessaria con il mondo della ricerca, della formazione e dei policymaker. E questo, secondo me, è il punto su cui bisogna lavorare guardando al futuro. L'altro, diciamo, l'altro aspetto come si possono consolidare? Come si possono consolidare? Non so perché mi va avanti, non riesco a vedere la slide, gli elementi qualificanti, no? La slide successiva? Allora, come si possono consolidare? Ripensare quindi il ruolo delle istituzioni pubbliche, nazionali e regionali nel supporto ai processi sul territorio, quindi non dare solo risorse finanziarie, ma anche costruire una capacitazione, quindi supportare comune il sentimento attivo dei terreni, anche con tool operativi, come sta facendo egregiamente Sibater, mettere in campo attività di accompagnamento e tool operativi, quindi affiancamento qualificato alle start-up, per esempio, che supportino il potenziamento delle capacità e le competenze degli operatori e delle istituzioni coinvolte in un'ottica proattiva, facilitare la creazione di rete anche lunghe con i centri di competenza, quindi tenere presenti che a volte le competenze che servono a mettere in piedi i processi non sono tutte presenti localmente, ma va creata una rete e portare nel quadro le competenze e le, non solo le competenze, anche le conoscenze codificate che servono per far partire i processi e per creare, diciamo, e per dare gambe a questi progetti, prevedere percorsi di ricercazione e formazione per i giovani, sicuramente un elemento importantissimo, che favorisca l'interazione tra operatori e ricercatori rispetto alle specificità della realtà, un po' come hanno fatto Madonì e anche come era l'intenzione del progetto Terre Regionali. Quindi qui, diciamo, riprendo un po' brevemente quali sono le questioni, insomma, il tema dell'accesso alla terra può essere, diciamo, affrontato da una molteplicità di strumenti e interventi e con focus diversi, che siano generalisti o approcci per luoghi. Gli strumenti canonici di decomposizione fondiaria sembrano, diciamo, funzionare benissimo nell'ambito dei contesti marginali, proprio perché non c'è un'appetibilità ai terreni. In questi casi rispondono meglio le esperienze di associazionismo fondiario. Sicuramente le esperienze locali, come quelle che abbiamo analizzato in questa presentazione, sono, diciamo, una delle soluzioni più auspicabili. Le pratiche di associazionismo sicuramente sono efficaci, sono a base efficace, diciamo, su cui costruire un'azione collettiva e una prima disposta al problema dell'abbandono è, diciamo, un primo problema, diciamo, un primo modo, una prima disposta anche in termini di metodo è quello di costituire degli inventari aggiornati, quindi rimappare questi terreni. Questo è sicuramente, diciamo, un primo passo importante e su questo già sta lavorando, infatti, diciamo, a parte Sibater, anche a livello, in diverse, diciamo, esperienze di banche della terra. Però le esperienze locali, diciamo, detto questo, anche se esistono già le strumentazioni, esistono già delle dimensioni dentro cui si possono collocare, a mio parere beneficerebbero sicuramente di un framework nazionale unitario che riprendesse gli elementi qualificanti e i supporti, e i supporti di azioni su territori e nell'ottica che abbiamo detto in questa presentazione. Io ho finito. Grazie Daniela, grazie Daniela e Sabrina. Abbiamo 20 minuti, meno di 20 minuti, per provare a rispondere alle domande che sono state fatte. Io sono tante, ho accorpato per temi, diciamo, le domande che sono state fatte e ve li rigiro, così come sono state proposte, naturalmente sperando di tenere in questo raggruppamento tutte le sollecitazioni che ci vengono dalle persone che hanno seguito il webinar. Allora, innanzitutto c'è il gruppo di domande relativa all'associazionismo. Su quello io vorrei dire che domani è in programma un webinar organizzato da IFELE e FORMERS in cui verrà presentato un volume che ha approfondito questi temi e ho messo anche il link sulla chat e quindi molte delle domande sono state fatte dal problema delle risposte lì, peraltro in preparazione un vademecum si batte su questo tema relativo proprio al tema della gestione associata e la funzione catastale che abbiamo visto, come ci ha detto Sabrina, è presente anche nelle strategie definite con la strategia all'interno. Su questo si deve dire che naturalmente molti comuni sono troppo piccoli per fare questo tipo di operazione quindi la gestione associata è sicuramente una strada obbligatoria. Comunque ne parliamo domani. Le altre questioni che sono state poste, che io adesso dico e poi giro alle risposte diciamo delle nostre due relatrici, riguardano un gruppo, il tema della frammentazione fondiaria. Daniela ne ha parlato abbastanza però, sono molte le domande che ci vengono poste su questo tema, si fa anche riferimento a leggi regionali che noi conosciamo, su come superare questo tema della frammentazione fondiaria. Qualcuno ha parlato anche e ha citato il tema dei proprietari assenteisti, cioè non solo quelli che è la frammentazione che è già un problema, ma anche il caso di terre abbandonate, che i proprietari sono introvabili oppure non esercitano i loro diritti o non decidono di esercitarli. Quindi una riflessione su questo, come superare questo problema oltre alle cose già dette. C'è un altro tema che riguarda anche la digitalizzazione in agricoltura. Non ce n'è parlato, però forse potrebbe essere interessante che qualcuno di voi dia qualche risposta. Io poi darò la parola sia a Sabrina e sia a Daniela e quindi poi deciderete se dire qualche cosa su questi temi. Il tema della digitalizzazione in agricoltura è un tema interessante, l'abbiamo incontrato anche durante le istruttorie delle strategie che sono state illustrate. Un altro tema riguarda anche il protocollo. Protocolli di legalità. In molte aree del sud, lo abbiamo visto anche in alcune esperienze di riunioni, sappiamo che il tema della terra è legato al tema della legalità. Ci sono i protocolli, però secondo le segnalazioni che ci vengono fatte in alcuni casi sono insufficienti, quindi eventualmente che cosa fare per rafforzare questo aspetto. Infine altre due questioni che voglio segnalare. Uno è proprio l'impatto Covid, uno è lo specifico terra Covid, strategia Covid, come si confronta le cose che abbiamo raccontato e che avete raccontato in ragione delle questioni che propone Covid, che sono le questioni del distanziamento, della sicurezza delle persone, eventualmente anche del controllo, di come anche della raccolta in agricoltura, perché noi sappiamo che c'è un problema anche di raccolta, di raccolta in questi mesi, quindi di assicurare una raccolta in agricoltura, insomma con le limitazioni di Covid, insomma potrebbe essere interessante avere su questo qualche cosa sull'egitazione. Infine l'ultimo tema, poi ce ne sono alcuni anche, diciamo più di dettaglio, che riguardano la coerenza con gli strumenti urbanistici, progetti di valorizzazione, ma ripeto sono state date dai colleghi anche i riferimenti ai nostri va-de-me, come molte di queste questioni vi potete trovare lì. Invece l'ultima questione riguarda la nuova PAC, la politica agricola così come la conosciamo, come evitare comportamenti speculativi indotti dalla normativa attuale, che cosa cambierà nella prospettiva su questo tema dell'uso della terra e soprattutto in agricoltura, e poi anche naturalmente la nuova programmazione dei fondi strutturali, anche con le modifiche che sono state recenti apportate alla Commissione, circa i regolamenti sui fondi strutturali. Insomma queste sono le questioni che sono emerse, sintetizzate nel dibattito, e a questo punto avete un altro quarto d'ora, diciamo 7 minuti a testa, darei la parola prima a Sabrina e poi a Daniela per concludere, provare a dare qualche risposta a queste domande. Sì sì ci sono, mi sentite? Sabrina ci sei? Mi sentite? Altrimenti iniziamo. Ok perfetto, allora io diciamo... Sì sì prego, prego. Lascierei diciamo le domande più tecniche a Daniela, che sicuramente insomma ha una... Io mi concentrerei su alcuni aspetti tra quelli sollevati, cioè innanzitutto sul tema della strategia Covid, io sono fondamentalmente sostenitrice del fatto che questa crisi riproponga in maniera molto spinta moltissime delle tematiche che noi abbiamo affrontato in strategia, anche, dico, sobbarcandoci dentro a un'azione di politica comunitaria di questioni che sono sicuramente prettamente di politica ordinaria. Quindi sono convinta che questa crisi riproponga tutto il tema, per esempio, della rete sanitaria territoriale, che non è oggetto oggi ma che è strettamente vicino, perché proprio diciamo il mio ruolo oggi era sottolineare come tutti gli aspetti dello sviluppo sono poi integrati e fondamentali. È evidente che il tema della salute che stiamo affrontando in questo momento è anche la riorganizzazione economica del lavoro attraverso tecniche di digitalizzazione, come quella a cui ha fatto riferimento uno degli intervenenti sulla digital farming. È evidente che sono tutti i temi che vengono ricollocati fortemente al centro del dibattito economico del paese al momento. Io vedo questa come un'opportunità per questi territori. È evidente che non è più il tema della territorialità, della sanità e dei territori, e non è un tema al momento più di SNAI e delle 72 aree, ma sta diventando un tema dirompente in questi giorni. Quindi io qui ci vedo un'opportunità. È evidente che poi, per quanto riguarda anche l'aspetto delle nuove, l'applicazione delle nuove tecnologie, queste hanno delle ricadute che sono da una parte infrastrutturali, quindi la disponibilità seria e il sorrido, perché penso che io che sto a Roma oggi ho perso la linea due o tre volte dentro Roma, quindi immagino in alcune delle aree interne ancora che significa avere una connessione adeguata, anche per poter affrontare temi come digital farming o telemedicina, che sono questioni di telescuola, con molti dei ragazzi che devono fare scuola tutti i giorni online. È forse il momento che questo tipo di handicap debba essere affrontato in maniera più decisa e strutturale dal Paese. Ci sono poi emerse tante questioni sull'associazionismo, penso che ci si soffermerà molto di più domani. È evidente soltanto un paio di questioni al volo che ho visto scritte. Da una parte il coinvolgimento, per esempio, di enti di diversi livelli. Voglio dire che da questo punto di vista la SNAI è stata molto flessibile, quindi laddove eventuali enti di un livello diverso avessero voluto collaborare e abbiamo sempre cercato di farlo. Quello che dico però è che è stata una strategia che ha lavorato su questioni ad hoc specifiche, quindi un ente entrare e collaborava quando si affrontava un determinato tema importante da dover affrontare insieme. L'altra questione è quella poi che ha accennato Monaco sulla dimensione dei comuni, però anche qui ho visto un'opportunità sicuramente perché il poter lavorare poi associati e quindi in rete, anche se è più difficile per i comuni più piccoli, è stato sempre comunque uno stimolo a fare meglio di più insieme agli altri. Questo è quello che ho potuto osservare. Voi avete tutti quanti, avete la mia mail e credo che quasi tutta Italia abbia il mio cellulare dopo la strategia, quindi per qualsiasi approfondimento si voglia fare così io sono sempre disponibile, come lo sapete. Grazie e passo la parola a Daniela. Le domande sono tante, il tempo è poco, le questioni sono complesse, quindi non so come riuscirò a rispondere, se riuscirò a rispondere in maniera faustiva. Magari faccio qualche piccola... Fai una scelta Daniela, fai una scelta. Com'è? Una scelta. Allora, la questione delle... Fai una scelta. Come? Non ho capito? Non ho capito Francesco? Una scelta, ok. Fai una scelta tra le domande, sì. Sì, 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 no, sono tutti temi rilevanti, però sicuramente non si riesce a rispondere in un momento con così poco tempo. E soprattutto alcune delle questioni sono anche da risolvere nel caso concreto, no? Cioè nel senso, la questione della frammentazione fondiaria non è che si affronta e si risolve in astratto o a livello nazionale. Poi dove esistono problematiche di questo tipo vanno risolte con delle soluzioni che sono costruite con il supporto degli attori locali. Cioè per esempio nel caso del Comelico le famiglie regolieri sono uno dei soggetti, degli attori rilevanti che stanno supportando il processo. Quindi diciamo le cose si fanno con chi c'è e con gli strumenti che si hanno a disposizione. Io direi che gli strumenti esistono, vanno magari messi a punto, calibrati meglio, però quello dell'associazionismo fondiario sicuramente con degli aggiustamenti, con diciamo prendendo in carico alcuni aspetti, diciamo alcune questioni, tipo come il trattamento, come si trattano i casi in cui c'è un proprietario silente. Una soluzione potrebbe essere che si stabilisce una tempistica, se non si riesce a trovare il proprietario intanto si utilizza quel terreno, tanto poi nella forma dell'associazionismo si può sempre recedere, cioè di fatto su quei terreni si mettono in atto dei miglioramenti, magari si mette in atto un miglioramento fondiario, un'infrastruttura di servizio, in quel caso non credo che ci sia una problematica, però queste cose vanno anche definite sul fronte regolamentare, nel senso che va fatta una chiarezza su alcuni punti per consentire uno spazio di azione su alcune tematiche che deve avere anche un backup sul fronte regolamentare legislativo, però le soluzioni secondo me si possono trovare, non sono cose inaffrontabili. Però sicuramente sul tema della frammentazione fondiaria, detto che bisogna abbassarsi poi sui processi, sui contesti specifici e sui attori che esistono in quei contesti, sicuramente l'associazionismo fondiario può essere utile, però questo è solo un pezzo, perché l'associazionismo fondiario può essere utile e può avere il suo massimo sviluppo nella situazione in cui c'è una valorizzazione possibile di queste terre su cui si lavora, perché altrimenti non è che lo si fa per hobby, quindi la cosa è che dietro ci deve essere una strategia, una costruzione di un progetto di valorizzazione che abbia delle gambe, quindi l'associazione fondiare è solo uno strumento, se non è dietro tutto questo rimane appeso nel nulla, quindi questo deve essere tenuto presente. Motivi per cui non funziona, possono essere motivi di necessità di definire il quadro legislativo, regolamentare delle problematiche, del fatto che mancano gli strumenti, ma a volte sono anche motivi di mancanza di una motivazione sufficiente a muovere i processi sul territorio, non so se mi spiego, quindi questo bisogna sempre tenerlo a mente. Purtroppo bisogna sempre tenere a mente che c'è una complessità e quando si parla di sviluppo a livello locale, la complessità arriva alla massima potenza, per cui bisogna fare i conti di questa complessità e attrezzarsi per affrontarla, quindi non bisogna farsi scoraggiare dai problemi che si incontrano. Poi un altro tema, quello della strategia, cioè di come questi elementi, come il Covid può cambiare, che cosa può succedere in disposto al Covid anche rispetto all'immediato, secondo nome le risposte che l'apparato amministrativo che si occupa di agricoltura può dare a questa emergenza del Covid sono di due livelli. Un livello è quello di aiutare e supportare l'emergenzialità, quindi si stanno facendo pazzi per ampliare il range delle azioni ammissibili nell'ambito delle misure investimenti aziendali, per cui si potrà sostenere alcune spese anche per i presidi e diventeranno automaticamente leggibili ex post, per cui in qualche modo ci si sta attrezzando per supportare organizzativamente la costruzione di reti per la raccolta, per la tosatura e si sta capendo come si può incattrare in un quadro istituzionale di strumenti questo tipo di attività, ma secondo me la sfida maggiore è quella rispetto al futuro, cioè la cosa che ha messo rispetto al dopo Covid, cioè strategie che consentono a questi territori di rafforzarsi su alcuni aspetti, per esempio quello che è venuto fuori con il Covid è che le realtà che erano già attrezzate, che si erano organizzate, che avevano un'organizzazione in rete, pensiamo ad esempio ai mulini agricoli organizzati con una rete di produttori che gli conferisce il grano, questi stanno funzionando, sono riusciti a riorganizzarsi velocemente per poter in questa situazione rimettersi in gioco, però esisteva già una struttura, quindi quello che si dovrà fare dopo Covid diventa ancora più strategico, non è che non lo fosse prima, però diventa ancora più strategico aiutare territori soprattutto sul fronte dell'organizzazione e della focalizzazione sulle distintività delle produzioni territoriali e di come si possono arrivare, si può arrivare ai mercati e a quali mercati si arriva, quindi sicuramente questo è un lavoro su cui, diciamo, del lavoro in rete, quindi del lavorare e supportare la cooperazione a livello locale è un tema su cui secondo me si dovrà lavorare dopo Covid, dell'altro è, come accennava Sabrina, lavorare insieme agli altri fondi, quindi adesso non c'è ancora uno scenario chiaro, ma secondo me sulla questione della sanità, lo sviluppo rurale può finanziare laboratori mobili, ma questi laboratori mobili non è che vengono finanziati in maniera frammentaria, bisognerebbe incastrare quello che può fare lo sviluppo rurale come reti già esistenti, perché poi lo sviluppo rurale non ha solo la strumentazione finanziaria, ma anche delle reti di soggetti intermedi che agiscono sui territori, come queste cose possono essere utilizzate per, nell'ambito di un'azione nazionale che si incazza in un quadro unitario, cioè quindi non è, diciamo, deve essere costruito questo framework nazionale che rende possibile una reazione al dopo Covid in cui le forze di tutti vengono messe in gioco. Sui comportamenti speculativi, e questa è l'ultima cosa che voglio dire, è che secondo me gli strumenti già esistono, cioè bisogna utilizzare, noi nell'ambito della strategia abbiamo spinto, abbiamo suggerito, abbiamo nelle interlocuzioni, diciamo, abbiamo focalizzato su questo aspetto dicendo che poteva essere anche un aspetto oggetto dei tavoli, diciamo, dell'associazionismo di confronto tra i sindaci, perché se un gruppo di sindaci si mette d'accordo sui criteri da utilizzare per le aste, sulle modalità, diciamo, che si possono utilizzare per l'accesso a questi terreni, alcune cose si possono fare già oggi con quello che esiste, perché noi in Italia, diciamo, per la paura di sbagliare della responsabilità, guardiamo che l'unico strumento esistente, che l'unico criterio esistente è il prezzo, ma non è il prezzo, ci sono anche criteri qualitativi che possono essere, se ben, diciamo, se portati nella maniera adeguata e metodologicamente corretta nel quadro, possono essere uno strumento per iniziare a lavorare su questo tema. Penso di aver detto più o meno tutto, ma forse il mio tempo è finito. Grazie, grazie, permettetemi, diciamo, prima di passare la parola a Francesco Carta per la chiusura tecnica, come d'uso, diciamo, di questi nostri webinar, di fare un ringraziamento a Sabrina e Daniele, è stato molto utile, interessante, credo che ci abbarremo ancora della vostra collaborazione, vi chiederemo di aiutarci ad approfondire i temi che oggi abbiamo in alcuni casi solo toccato, ci rendiamo conto che il tema è molto complesso, quindi grazie e ci ritroveremo senz'altro. Poi un ringraziamento anche ai partecipanti, perché intanto le domande continuano ad affluire, abbiamo toccato la quota 200, quindi ci fa molto piacere che ci sia questo seguito, diciamo, anche costruttivo, intelligente e propositivo, perché noi le domande le raccogliamo, in qualche misura abbiamo provato a rispondere, in qualche caso abbiamo rinviato agli strumenti del progetto, gli strumenti che utilizziamo per le azioni di supporto, abbiamo rinviato, rinviamo anche agli altri webinar che faremo nel nostro piano di attività, di formazione, insomma, che è un piano molto articolato, quindi noi di norma il mercoledì facciamo questi approfondimenti tecnici oppure di riflessione più generale, quindi anche lì avremo modo di discutere di queste questioni. In ultimo consentitemi e poi do la parola a Francesco Carta di ringraziare il nostro staff tecnico, Francesco e Lisabetta, tutte le persone che si stanno dietro, Lucia, altri, scusate se dimentico qualcuno, ma veramente si sta facendo uno sforzo importante in questo momento per lavorare in smart working, non solamente con l'attività di formazione, ma su questo, quindi insomma è grazie a loro che riusciamo a fare queste operazioni e poi naturalmente anche i collaboratori del progetto Sibater che sono sempre presenti e attivi, i nostri consulenti, l'unità di coordinamento, eccetera. Quindi insomma grazie a tutti e ci vediamo prossimamente. Insomma tutti gli aggiornamenti e i dati poi sono sul nostro sito. A te Francesco per la chiusura. Grazie mille Francesco, allora io ringrazio intanto tutti i relatori, ringrazio te per l'organizzazione di questo webinar, ringraziamo tutti i partecipanti, sono stati numerosi sino alla fine, come vi abbiamo scritto in chat, potete rivedere la registrazione e scaricare le slide delle nostre relatrici a partire da domani mattina sul nostro sito internet, ma anche sul nostro canale YouTube dove risiedono tutti i webinar fatti fino ad oggi, per cui vi invitiamo a consultare sia al nostro portale che al nostro canale YouTube. Noi ci vediamo nel prossimo webinar e a presto. Grazie mille.